Come 12 anni fa, come nel 2003, la tonno calipo Calabria risale sul tetto d'Italia. Lo fa conquistando la Coppa Tricolore di Serie 2. I giallarossi battono in finale l'ottimo Piacenza-Picena dopo quasi due ore e mezzo di battaglia. Finisce al tie-break 16 a 14 per i calabresi, capaci di ribaltare l'ultimo e decisivo parziale sotto 13 a 11. Ha vinto la Caparbietà Vibonese, il gruppo, il tecnico Luca Monti e Albisi in Coppa Italia nel giro di un anno. Hanno vinto i tifosi calabresi. Un gruppo di loro ha sfidato le avverse condizioni meteorologiche pur di seguire e sostenere i propri beniamini. Ha vinto la Calabria, capace attraverso il volley di mostrare la parte più bella della nostra regione.